buongiorno siamo barbara e francesca dal centro di visivi di bolzano questo mese la brochure dedicata all'alto adige tratta il tema location perfect e ci propone alcuni filmati e cortometraggi su dei luoghi emblematici dell'alto adige il film del mese di settembre è un giorno di pioggia new york ed è un film scritto diretto da woody allen abbiamo scelto questo film perché il regista ha deciso di ambientare la storia nella città di new york che la società preferita ci perdiamo in questa giornata autunnale e il giorno di pioggia non rispecchia solamente una condizione climatica bensì l'interiorità dei personaggi ovviamente questo film è disponibile al pressetto gratuito in mediateca vi lasciamo adesso la presentazione di matteo e vi aspettiamo qui in mediateca grazie ciao un giorno di pioggia new york è un film statunitense del 2019 diretto da woody allen woody allen è forse uno dei registi americani più conosciuti all'estero soprattutto qui in europa dove le sue commedie sofisticate hanno sempre avuto un certo successo allen nasce a brooklyn in una famiglia ebraica di origine ungherese all'inizio prima di dedicarsi al cinema fa successo come cabaretista showman presentatore e infine a proda al teatro di bradwee e diciamo bradwee è un po il trampolino di lancio che lo porterà ad hollywood e poi il resto è storia un giorno di pioggia new york racconta la storia di gatsby e ashley che sono una giovanissima coppia di innamorati che sono al college e lei è un esperiente giornalista e riesce a strappare un incontro con un famoso regista manattan e gatsby pensa che questa è una buona occasione per passare un weekend con la sua amata nella bellissima città di new york le cose prendono una picca inaspettata però e e i due si si perdono nella nella grande città e cominciano una serie di vicissitudini incontri che li porteranno a scoprire anche una parte di loro stessi che non conoscevano woody allen torna a dirigere la sua amata new york e firma una commedia agrodolce perché divertente ma con garbo e con qualche punta di amarezza però funziona perché perché qui woody allen gioca la sottrazione non c'è nessuna pomposità nessuna esagerazione costruisce dei quadri stupendi e infatti che poi sono tra l'altro fotografati da vittorio storaro che riesce a dare un'aura magica a new york sia con i toni freddi quando piove per esempio in questo blu intenso oppure con i toni caldi quando new york è colpita dai tramonti dorati di per sé la trama di questo film è semplice ma allen riesce a essere mai banale gioca bene coi personaggi caratterizza anche i personaggi secondari o alcune fugaci apparizioni sono tutti interessanti hanno hanno tutto hanno tutti qualcosa da dire e il personaggio di ashley ma così come quello di gatsby hanno tanto di allen e alcuni dialoghi e monologhi ricordano l'allen più classico e il più divertente insomma un giorno di pioggia new york è un classico alleniano ma contemporaneo divertente un po amaro riflessivo e giocoso equilibrato ma che ti sorprende e insomma una commedia che sicuramente piacerà ai fan più duri e puri del regista ma che potrebbe piacere anche a chi non ha mai conosciuto allen ricordo che un giorno di pioggia new york è disponibile a prestito gratuito presso il centro visivi di bolzano grazie